Crescono i figli e lo fanno bene se vanno d'accordo con chi li alleva. Nel caso del Rocella è chi li allena ad avere ragione dopo la settima, ottava e non aggiornata. Tre risultati utili con un pareggio che vale oro al cospetto della capolista ercolanese. 5-2-2 in difesa per Giampa, 4-3-3 quasi sempre per squillante, tecnico campano squalificato e con quattro titolari indisponibili. Menzione d'onore per il direttore De Tommaso di Rieti, in lizza per il passaggio alla Campro Reduce dal Viareggio Cup. Primaverazione casalinga al 38esimo con Yeboa che si divincola, dribbla e tira, mascolo devia. Un minuto dopo Tassone prova la botta, Posilli può far passare la palla che non arriva a destinazione. Al 40esimo la punizione di Malerba è un frisbee per il numero uno dell'ercolanese. Per i padroni di casa è Tassone a riservarsi uno spazio temporale per salire in cattedra, il tacco di Faiello è per lui al 41esimo e nella ripresa si rifà pericoloso tra dribbling e cambi di direzione. L'ercolanese torna in campo con un altro carattere più volitivo, Sorrentino sguscia in aria al decimo e richiama l'attenzione di Scufia. Due minuti dopo è sempre Sorrentino a provare a sorprendere il portiere del Roccella risolvendo dalla distanza. Giacobbe segue l'onda costruttiva ma opta per una palla più bassa e il quindicesimo. Il finale è tutto casalingo anche se Reca lascia il campo per infortunio e nell'altra compagine anche Fontana ma per espulsione. Cordova crossa lungo per gli Eboa e sulla spizzicata opera d'urgenza Mascolo. Tassone lo serve di nuovo al 29esimo ma è tedesco a cogliere il suggerimento. Al 43esimo Cordova tenta la finezza di tacco contro Mascolo che gli piantona il palo prescelto e al 49esimo Malerba fa alzare tutti in piedi in piena illusione perché la palla sfiora la traversa.